Hanno preso il via questa mattina alle 7 le operazioni di rimozione del bus precipitato a Ravello lo scorso 8 maggio dalla strada provinciale 75 nel tragico incidente nel quale ha perso la vita l'autista trentenne Nicola Fusco. Sulla dinamica la procura della Repubblica di Salerno ha aperto un'inchiesta che vede indagate 18 persone e proprio la necessità di verificare se il bus navetta per il trasporto passeggeri vuoto al momento del sinistro abbia avuto un guasto meccanico la procura ha disposto la rimozione del mezzo fermo dallo scorso 8 maggio in via Valle del Dragone. Per consentire il lavoro di rimozione il traffico veicolare è stato interrotto. Il piano complessivo vede al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco con autogru per un totale di 12 mezzi provenienti anche da Napoli e il coordinamento della procura e dei carabinieri il tutto definito in una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi in prefettura Salerno. Il bus una volta rimosso sarà trasferito presso un deposito a disposizione dell'autorità giudiziaria per le perizie utili alle indagini che dovranno accertare le cause dell'incidente.